Ma per me è più interagionata, nel senso che c'è una formula neanche troppo tacita, per esempio la mia gente, nella quale più delle volte cerco di non fare qualcosa che assomigli immediatamente a quello che ho fatto prima, ho fatto la parola genere, ma non so se poi è giusta, però se faccio una commedia immediatamente a quello non farò una cosa comica, un po' veramente buono, una cosa più drammatica, cerco di inserire in un altro tipo di contesto. Appunto, sul video dopo Sonja Napoli ho girato 1992 a proposito di serie di un certo tipo, no? Cioè una serie di sky su manipulite. Per me chiaramente poi il sogno non è che sempre uno riesce a... però la regola è abbastanza ferrea e il fatto è abbastanza chiaro, quindi sì, per me è più schia, poi è quello che chiaramente non si presenta a un progetto che vale la pena che ha portato, è un altro discorso, ma è rimasto, ma è quello che è l'idea. Guarda, per me ovviamente non sempre avevo la possibilità di scegliere, questo è il vero grande successo di un attore quando arriva alle condizioni di poter decidere cosa fare della propria vita. e questa cosa quando la raggiungi non è detto che vale per sempre, io per farlo ho dovuto cominciare a scrivere e a fare la regia, nel senso che io dico che cerco di fare con una prevalenza di commedie, però lo che cerco di fare è a tutto punto, visto che ho la possibilità di farlo e di scrivermi dei personaggi diversi, per esempio adesso dopo questi tre protagonisti di quest'anno, in questi tre film, nel mio prossimo regista, non farò il protagonista assoluto, reciterò a cuolo, ma non riuscirò a fare con fatto un buongiorno a papà, lasciare a loro il giudato di un spazio, quindi attraverso questo meccanismo cerco di variare le cose che faccio. Se ti avrei pensato di fare un film solo come regista? Sì, in realtà me l'hanno proposto perfetto adesso, ho detto sempre di no, perché mette un po' di... perché sai, io ancora non mi penso come regista, mi penso ancora come un attore che racconta una storia, è una specie di... questa specie di fascinazione per gli affamuratori, per quelli che ti mettono seduti, ti dico adesso ti raccontano una cosa e ti devono l'inchiodato. L'idea di raccontare questa cosa con film è un sacco, perché sto cerco sempre storie mai autobiografiche, ma sempre molto lontane dalla mia vita privata. Bene, e continuo a pensarmi come regista in quest'ottica, adesso per la prima volta ho cominciato a pensarci, non lo escludo, perché magari se trovassi un copione bellissimo che mi propongono, magari ci penso. Io, diciamo, fino adesso ho sempre avuto la fortuna di poter scegliere le cose, ma mai con questo criterio in realtà, ci penso, cioè, insomma, a fare una volta una cosa o un'altra. Forse, penso a una cosa che mi disse, mi sento in incitazione nanti anni fa, di cercare tutte le volte che si interviene un personaggio, veramente fare tutto il giorno delle differenze, tra noi stessi e il personaggio, per cercare di togliere quelle cose di noi che non vanno bene per il personaggio. e per cui se il senso è un carattere e un gesto verso, io mi sento in grado di togliere le cose che riguardano la tendenza, quindi anche in modo di muovere, se camminare. Quindi ecco, penso che, in più che altro, in più di fare ruoli diversi, io cerco di essere più diversa, per cui anche magari due commedie, due ruoli drammatici, cerco di non portare, poi le volte ci vi ascolterò, però cerco di non portare troppo di me, o comunque quelle cose di me che non vanno bene per il tuo cuore.